La mancanza di rispetto da parte di qualcuno nei confronti del patrimonio di tutti torna inesorabilmente a colpire Sciacca. Un grave atto di vandalismo infatti ha preso di mire il Teatro Popolare Samonà ad essere stata danneggiata e forzata alla parte adiacente una delle porte d'ingresso alla Grande Sala. Teatro Popolare inaugurato reso fruibile nel 2014, sede di diversi eventi di carattere artistico e privato organizzati sia direttamente dall'ex amministrazione di Paola sia dai impresari che operano sul territorio nel mondo del management. Oggi sulla vicenda interviene l'ex assessore al turismo Salvatore Monte il quale ricorda che il Samonà è un teatro che seppure ancora incompleto era diventato per molti saccensi un appuntamento fisso per godere di spettacoli di diverso genere dal musicale al cabarettistico dalla prosa alla musica classica. Tutti eventi osserva Monte che hanno permesso che il teatro diventasse un piccolo polo artistico della nostra città. Salvatore Monte oggi accusa l'amministrazione Valenti insediatasi nel giugno 2017 di avere totalmente eliminato dai suoi programmi l'utilizzo dello stabile e la sua relativa valorizzazione. L'attuale consigliere comunale di opposizione ricorda di essere stato destinatario di critiche per non aver pressato la regione negli ultimi giorni di suo mandato elettorale verso la stipula di una proroga della precedente convenzione. Pare tuttavia che dallo scorso dicembre la regione siciliana abbia rinnovato quella convenzione. Convenzione scaduta oggi 28 febbraio. Peccato però dichiara Monte che la struttura non sia stata utilizzata e che ad oggi non ci sia stata l'opportunità di assistere ad un solo evento. L'accusa di Salvatore Monte e l'amministrazione Valenti è quella di avere snobbato il teatro Samonà e oggi che la convenzione nuovamente è scaduta il teatro seppur temporaneamente ritorna alla regione. Monte preferisce non entrare nel merito tecnico per delucidare cosa accade ad una struttura di quella portata se non utilizzata per diverso tempo. Sarei considerato catastrofista precisa ma il sipario al momento si è chiuso ironizza portando via con sé innumerevoli ricordi belli di quanto si è svolto all'interno del teatro e i me. Tanti ricordi amari da un lato quello di innumerevoli interrogazioni consigliari della loro opposizione che proponeva soluzioni per la gestione dall'altro la totale incapacità oggi che l'opposizione è diventata maggioranza a metterla in atto.